Ciclovia dell'Aso, una delle 13 ciclovie che compongono la rete ciclobile regionale insieme alla ciclovia adriatica e un passo avanti verso una mobilità sostenibile, un rilancio del territorio. Beh sì, insomma questa idea di una regione sostenibile comincia a prendere corpo perché questa è quasi l'ultima, la penultima perché poi rimarrà il tronto, presentazione delle ciclovie che sono in pratica i pettini che partono dalla adriatica e quindi dalla ciclovia adriatica della quale le marche sono capofila, partono verso l'interno per collegare la costa con l'entroterra. Da lì poi parte tutto il progetto Mark Outdoor che è invece una serie di circuiti di bike che però non sono ciclovie ma sono tracciati un pochino più impegnativi. Quindi marche da vivere con la bicicletta che è un mezzo da utilizzare non solo per poter andare al lavoro ma anche per lo sport e per il turismo.